Ciao a tutti, sono ancora Luca, il capitano dell'Italia per quanto riguarda 90 Min e Star Trek. Sono appena arrivato in Lione e questo è il bellissimo sfondo che c'è vicino al mio hotel e quale posto migliore se non questo per fare il mio vlog giornaliero. Abbiamo visto il match inaugurale della Francia insieme agli altri capitani, è stato da pelle d'occa sotto la Torre Eiffel con il gol all'ultimo secondo di Paillé che ha fatto esultare praticamente tutta la Francia. Ieri sera c'è stata anche l'Inghilterra, stasera ci sarà la Germania, ma domani finalmente tocca a noi. Ho già la maglia azzurra addosso, anche se in realtà è quella bianca, ma l'azzurro c'è sempre. Speriamo davvero di fare una gran partita perché ci servono tre punti assolutamente. Il Belgio è probabilmente la favorita del nostro girone, ma noi dobbiamo far vedere che siamo vivi come al solito, non moriamo mai.